sicuramente perché soprattutto anche l'età che sto facendo adesso che avevo già fatto due anni fa l'under 15 secondo me è una delle categorie più impegnative perché c'è questo passaggio da una forte adolescenza in crescita da un passaggio di scuola dalla terza media alla prima superiore quindi nella loro testa ci sono tanti cambiamenti e si nota che stanno crescendo quindi tu devi essere attento soprattutto sotto l'aspetto psicologico da capire alle volte gli sguardi gli atteggiamenti e non è facile però io penso che questo contatto possa essere importante sia per loro nella crescita ma anche per tu allenatore iniziare con i giovani significa prepararti un bagaglio secondo me importante in un futuro d'allenatore che poi possa essere con le persone più grandi beh è chiaro che devo dire che i derby sono situazioni molto particolari e molto molto belle perché vengono vissute a 360 gradi sia all'interno ma soprattutto all'esterno con la gente quindi ricordi importanti come possano essere i derby del 6 gennaio che era il mio primo derby il mio primo anno che stavo lì la Lazio non lo vinceva da tanto e avevamo una squadra inferiore sulla carta però abbiamo fatto una grande partita abbiamo vinto 3 a 1 ho segnato anche quindi quello è una delle prime cose che ho vissuto lì e poi me lo sono portato dietro per tanti anni perché capivo e vedevo che ogni derby era una situazione diversa poi aggiungo i due trofei che abbiamo vinto la coppa italia e la supercoppa di di pechino perché perché la cosa che è stata bella importante che ho iniziato una carriera dalle dalle categorie minori sono riuscito poi ad arrivare alla Lazio e impormi anno dopo anno arrivando a raggiungere più di 100 voi con quella maglia diventare capitano vincere due trofei che non avevo mai mai avuto la possibilità di di vincere è normale che questo quello mi rimanga come le cose più belle che ho vissuto come l'ingresso e aver la possibilità di giocare in Champions League questi sono diciamo i momenti ricordi più più importanti con Simone a parte l'ottimo rapporto che avevamo quando abbiamo giocato insieme e ancora oggi ogni tanto ci sentiamo ogni tanto ci vediamo al campo tant'è che noi ci alleniamo da quest'anno nel nel centro sportivo di formello perché per per le per le squadre nazionali hanno fatto due campi gli sfogliatori nuovi quindi da quest'anno ci alleniamo lì è una cosa molto bella sia per noi ma anche per i ragazzi che vengono al campo e vedono la prima squadra al campo a fianco allora noi spesso quando arriviamo al campo e saliamo per andare a pareramento ci vediamo ci salutiamo parliamo anche delle situazioni che capitano magari delle partite quindi il rapporto con la prima squadra poi c'è soprattutto anche nel fatto che ci si che ci si incontra e ci si ci si confronta ecco